Il volontariato per riflettere su un tema importante come quello dell'agire gratuito in rapporto a un altro tema importante come quello della felicità, quindi un'occasione per riflettere sulla identità del volontariato, su quello che il volontariato è, vuole fare, vuole essere. Un'occasione per far incontrare tutti coloro che con ruoli differenti ragionano e si occupano di volontariato e quindi il volontariato, gli enti pubblici ma anche le fondazioni bancarie. Un progetto che è assolutamente innovativo, innovativo perché non è una scuola classica, è una scuola delle motivazioni, una scuola che vuole far leva sull'identità e non sugli aspetti tecnici. Una scuola di volontariato per riflettere sull'agire gratuito e per favorire la crescita del capitale umano impegnato nell'associazionismo e nella promozione della cultura del volontariato. È questa l'iniziativa unica in Italia rivolta ai vertici delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, della pubblica amministrazione e delle fondazioni bancarie, promossa dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato dell'Emilia Romagna, insieme al coordinamento emiliano-romagnolo dei centri servizio per il volontariato e supportata dal punto di vista scientifico da ICON, l'associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non-profit. La prima edizione della scuola si è svolta a Rimini dal 30 novembre al 1 dicembre 2007 e a Parma dal 1 al 2 febbraio 2008. Professori universitari ed esperti del terzo settore hanno tenuto lezioni con l'obiettivo di formare esperti di gratuità e felicità. Noi riteniamo che il volontariato sia un momento di grande svolta, proprio per la sua significativa operazione di essere prossimo agli altri, è necessario che capisca il cambiamento e quindi modifichi anche i propri atteggiamenti per poter essere efficace nella propria azione, che è sempre rivolsa all'altro. I destinatari cambiano, allora il volontariato non può essere solo un volontariato che assiste, sostiene, ma è un volontariato che capisce, che cerchi di discernere e si dà dei metodi nuovi. I punti di svolta epocale bisogna ricorrere alla cultura, dove cultura vuol dire riscoprire i fondamenti di un certo modo di agire e recuperando antichi valori, ma soprattutto innovando le forme della presenza. Tradizionalmente il valore del volontariato è il dono, è il dono gratuito, è la donazione, è la spontaneità nell'aiuto agli altri. Questo rimane vero, è senz'altro specifico del volontariato, però bisogna che il volontariato si raccordi con le altre forme di dono che emergono nella società. Allora i valori del volontariato restano gli stessi, cioè l'agire gratuito per gli altri, ma bisogna che si organizzi in qualche modo in collaborazione con queste forme più imprenditoriali di gestire il dono, la gratuità. Una volta il volontariato aveva difficoltà a proporsi, non riusciva a cogliere il fatto che il sapersi proporre, il saper comunicare non era un modo per, virgolette, farsi vedere, di autogratificazione, ma è uno strumento. Il volontariato ha capito che deve anche avere dei criteri per farsi conoscere, per far conoscere il contributo che può dare. L'agire gratuito, che è ciò che caratterizza il volontariato, genera quella forma di capitale sociale che oggi noi chiamiamo di tipo linking, cioè un tipo di capitale sociale che non solo produce coesione sociale, ma soprattutto innova il modo di operare sia del settore pubblico sia del settore privato for profit. In altre parole, l'azione gratuita è ciò che consente alle altre sfere della società di assolvere ai compiti di un'evoluzione nel senso civile della società medesima. Ecco perché oggi l'azione gratuita è più indispensabile per paradossale che ciò possa sembrare del passato. Uno stato interiore che poi in qualche modo riflette e si ripropone sui altri, uno stato di serenità e di equilibrio interiore. È molto semplice essere in pace con la mia coscienza e stare bene con gli altri, voglio dire. Verificare assieme ai soggetti che intervengono nel processo il raggiungimento di obiettivi comuni, che ci si è posti assieme, per cui si è lavorato, sono stati condivisi, credo che sia questo. Il rapporto tra benessere e felicità nel contesto del volontariato oggi sta forse un po' cambiando rispetto al passato, perché nel passato ci si concentrava soprattutto sul fatto che l'azione di volontariato fosse un'azione utile, un'azione che desse beneficio agli altri. Questo naturalmente continua a essere vero, forse anche più di prima. Il punto è però che allo stesso tempo, oggi, l'agire in un determinato contesto che porta senso produce benessere e felicità in primo luogo anche per chi agisce. Persone che regolarmente svolgono attività di questo tipo si raccontano come più felici mediamente rispetto a quelle che non lo fanno. Il volontariato è molto importante perché dietro i fattori materiali che noi consideriamo la produttività, le ore lavorate, il capitale, ci sono in realtà dei fattori nascosti che sono fondamentali, immateriali, che sono la dignità, l'autostima, i beni relazionali. Il volontariato lavora proprio su questi fattori nascosti, apprezziamo alla cura delle persone, all'inserimento delle persone che sono in condizioni di disagio. Quindi curando sia i beni relazionali che queste risorse fondamentali, dignità e autostima, crea le premesse affinché le persone possano essere produttive nel sistema economico. Un ragazzo, una persona, un volontario in questo caso, si avvicina agli altri, dovrebbe riuscire a costruire assieme agli altri l'intervento. Un abbraccio di un disabile che ti si avvicina e ti abbraccia, cioè praticamente lì senti dentro di te qualcosa di diverso, qualcosa che ti appaga, chiamiamola felicità. Per me la felicità è, potrei definirla proprio come felicità individuale e felicità pubblica. Una felicità proprio che tende o può essere proprio il benessere dell'individuo, ma non soltanto come individuo, ma anche come gruppo di individui, come comunità, come collettività che tende a quel tipo di benessere diffuso. Il volontariato mi ha dato tanto, mi ha dato molto e se io ho dato dieci ho avuto indietro mille. Il paradosso della felicità si risolve non producendo più utilità, ma più fraternità, più volontariato. Dobbiamo recuperare nella nostra cultura occidentale il principio di fraternità, quindi tutti quegli strumenti e quelle occasioni, la più importante delle quali è il volontariato. Stefano Zamagni 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 Stefano Zamagni